Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio primo video del nuovo canale Bruni Davide Fai da Te dove in questo video vi farò vedere dove ho costruito una ventola ad energia solare adesso come vedete l'ho testata e gira guardate i pannellini solari ognuno da 4,5 volte cioè con un totale di 9 volte adesso vi farò vedere come gira è molto ideale per l'estate che se qualcuno fa caldo questa la potrete usare per rinfrescarvi un po' bene a tutti la corrente che ci servirà è sono due pannellini solari da 4,5 volt un metro di filo circa una ventola smontata di un giocattolo un tubo di plastica così poi un pezzo di tavola dove poi prendiamo il pezzo di tavola ci mettiamo il il tubo di plastica ci montiamo anche il motorino elettrico e attaccate ai pannellini solari beh ciao ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video da Bruno Davide